Vuoto, empty and full. Lezione approvata dal professor Pato. Come potrebbe ammirare i suoi occhiali da sole senza uno specchio? Arr, come faranno i pirati ad attraversare e raggiungere il tesoro? Il ponte non c'è più! Un razzo. Rocket! Rocket. Sapete i nomi delle forme? Povero Pato. Sapete dire a Pato quanti cuori sono? Eight! Eight hearts! Esatto, sono otto. Eight!